Sul Mona diventa protagonista del cinema e della cultura. E' in corso la ripresa del film Cloro, che in questi giorni sta incuriosento passanti e abitanti del capoluogo Peligno. La direzione del film è di Lamberto San Felice, la produzione della Società Angfilm, in coproduzione con Asmara Film. Protagonista femminile Piera degli Esposi di Bolognese di origine, che a distanza di anni è tornata in Abruzzo. Nel cast ci sono l'abruzzese Sara Seraiocco e Giorgio Colangeli, in questo periodo visto in tv su Rai 1, con la fiction Braccialetti Rossi. A Sul Mona per le riprese è stato presente anche Ivan Franek, attore boemo. Il primo ciacchi il 10 febbraio e le riprese dopo quattro settimane termineranno il 15 marzo. L'uscita sul grande schermo è prevista per il 2015 e poi verrà trasmesso anche in tv. La storia racconta la situazione familiare di una giovane ragazza 18enne promessa del nuoto sincronizzato, costretta a abbandonare la sua città ostia, le amicizie e l'attività agonistica per accudire il padre, caduto in depressione dopo la morte della mamma in un incidente e il fratellino bisognoso di attenzioni. Rimasti senza un lavoro e senza una casa, decidono di tornare in Abruzzo, più precisamente a Sul Mona, nel paese d'origine del padre. Saranno ospitati da uno zio che vive in una baita sul Morrone. Dopo un periodo passato sulle montagne abruzzesi, la famiglia decide di tornare ad Ostia ed è proprio qui che la ragazza capirà molte cose della sua vita. Le scene sono state girate nella zona industriale l'abbadia morronese. Questa mattina la truppe cinematografica è stata impegnata nelle riprese di alcune scene in via Circonvallazione Occidentale sotto il ponte Capograssi in prossimità del termine degli autobus. La scena riguardava l'arrivo con un autobus dell'Arpa e l'incontro tra due giovani donne. Grazie. 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 Grazie.